Non c'è nessuno stato che si chiami Vecchia Zelanda. Valentina, a Pittsburgh ha aperto il Conflict Kitchen, un ristorante dove le coppie possono litigare liberamente. Vero o falso? Falso. Falso, falso. Esiste questo Conflict Kitchen. Ma di che si tratta Laura? Esiste, esiste. Il Conflict Kitchen di Pittsburgh è un ristorante che prepara piatti provenienti soltanto da tutti quei paesi con cui gli Stati Uniti sono in conflitto. L'idea è di attirare i clienti con del buon cibo per poi coinvolgere in eventi o dibattiti mirati a simulare proprio la conoscenza della cultura e della politica di alcuni stati come per esempio l'Iran, l'Iraq, Cuba, Venezuela e la Corea del Nord. Bene, grazie Laura. Andiamo da Simona. Grazie.